Cari amici, buona giornata. Chiediamo oggi al Signore per intercessione di San Pio da Pietrelcina che ci aiuti a riconoscere che il Regno di Dio è vicino e quindi ci aiuti a convertirci e a credere nel Vangelo. Ascoltiamo oggi il Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 1 e 6. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro non prendete nulla per il viaggio né bastone né sacca né pane né denaro e non portatevi due tuniche in qualunque casa entriate e rimanete lì e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Gesù dunque rende partecipi della sua missione i dodici, li convoca, li chiama, li chiama dal gruppo degli altri discepoli e da loro potere. Noi sappiamo che l'insegnamento di Gesù da subito si era caratterizzato come nuovo perché non era pura ripetizione di insegnamento ma era parola efficace che cambiava la vita, produceva in chi l'accoglieva con disponibilità frutto. Ora questo potere grazie al legame che i dodici hanno con Gesù viene affidato anche a loro. Questa potestà, questa forza, questo potere viene specificato. È un potere su tutti i demoni e poi ha anche un potere di guarire le malattie. Dunque Gesù convoca i dodici, li rende partecipi del suo potere e li invia. Saranno chiamati apostoli appunto perché sono inviati. Gesù ordina loro di allontanarsi da lui. Era molto bello stare insieme con lui ma Gesù ordina di allontanarsi da lui perché la predicazione del regno di Dio raggiunga tutti i villaggi e infatti il racconto termina con questa frase. Uscirono, uscirono dal gruppo e giravano di villaggio in villaggio ovunque. Cioè questo desiderio di arrivare dappertutto. E devono annunciare il regno di Dio. Devono cioè annunciare che in Gesù Dio si è fatto vicino. Annunciare il regno vuol dire convertire il cuore a riconoscere Dio come primo, primo nella vita. E poi mostrare come quando Dio è primo nella vita produce dei frutti. grazie alla parola efficace di Gesù il regno di Dio diventa efficace e si manifesta attraverso dei segni dove è accolto avviene una liberazione dal demonio. L'annuncio potente della misericordia di Dio fa fuggire il demonio dalla vita delle persone, libera l'anima dall'angoscia di essere sotto un potere che ti impedisce la libertà, che ti fa guardare il mondo con paura perché è abitato da forze oscure. Lì dove Dio arriva è come avvolto da un'aria fresca, buona, nuova, che ti libera dalla paura e ti fa guardare la realtà, il mondo, anche il mondo della malattia in maniera diversa. Sai che puoi impegnarti a liberarlo, a liberarti, a lottare contro la malattia perché la creazione è buona e può essere rimessa in ordine e l'annuncio è anche segnato da questa vittoria sulla malattia, sulla infermità. Lì dove si annuncia il regno si sperimenta la beatitudine, si entra a far parte di una nuova famiglia che è a Dio per padre, dove ogni discepolo è madre perché accoglie e genera Gesù ed è fratello in mezzo a fratelli. Oltre al potere Gesù delinea anche uno stile per i dodici, è lo stile che ordina durante il viaggio missionario di privarsi di ogni sicurezza, si deve abbandonare il bastone che serve per difendersi, la sacca dove riporre le cose necessarie come il pane perché non bisogna portarsi il pane, lei bisogna portarsi nella borsa del denaro con cui acquistare il pane, non bisogna portarsi neanche due tuniche, basta solo quella che uno indossa e queste indicazioni riguardanti l'equipaggiamento non sono date perché non si debba mangiare o non si debba vestirsi ma durante il tempo della missione l'Apostolo proprio anche con il suo equipaggiamento testimonia la fiducia della provvidenza, è un missionario per il Signore, cammina per il Signore dunque il Signore lo aiuterà e provvederà al necessario. Gesù annuncia inoltre che come è capitato a lui anche al discepolo capiterà di incontrare l'accoglienza ma anche il rifiuto e nel caso incontri il rifiuto dice Gesù scuotete la polvere dai vostri piedi, scuotere la polvere vuol indicare un segno di rottura da quella città dove si è stati rifiutati non si vuol portare neanche un piccolo canello di polvere. Questo è il senso del gesto che per esempio Paolo farà quando sarà rifiutato da Antiochia, di Pisidia, dell'attuale Grecia, uscirà scuotendo la polvere perché non è stato accolto. Questo è il testo, potremmo oggi riferirlo a padre Pio che ricordiamo perché egli è stato testimone del Vangelo che noi oggi proclamiamo. In effetti pur essendo debole e malato padre Pio non spostandosi mai dal suo convento ha vissuto una missione decisiva, non è andato lui nei villaggi, non è partito in missione ma sono le persone che sono accorse a lui e ha esercitato il potere di liberare dal demonio passando ore e ore in confessionale. Quante persone hanno sperimentato come l'annuncio del regno testimoniato da padre Pio liberasse l'animo dalla paura, dall'angoscia, dal dominio del demonio e questo rimanda una lotta che lo stesso padre Pio ha fatto contro il male, contro il demonio e questo ci ricorda questa caratteristica della lotta, della liberazione dal demonio che deve caratterizzare anche noi e che ha come strumento principale la confessione. Conosco delle persone che hanno anche la statua di padre Pio, che parlano spesso di padre Pio ma che non si confessano mai tradendo di fatto l'ispirazione più profonda di padre Pio ma nello stesso tempo padre Pio ha mostrato come la lotta al demonio si traduceva anche nella lotta contro un'infermità e ha mostrato la modalità non solo con la preghiera invocando la salvezza, la sanità ma anche traducendo in concreto questa passione per i malati, per guarire le sofferenze ha costruito un ospedale, è indicato lo stile che è sempre stato nella chiesa, l'annuncio del regno è accompagnato anche una cura concreta verso la malattia. Chiediamo al Signore di riconoscere oggi, da una parte l'invito ad accogliere la predicazione del regno ma anche chiediamo al Signore di essere anche noi resi partecipi della missione, ricevere anche noi un compito per portare Gesù di villaggio in villaggio. Buona giornata.